A 99 secondi con Pasquale Populizio qui alla mitica Web Fest di Pescara. Pasquale, hai il solito minuto e mezzo per dire perché diavolo ti sei imbarcato in questa impresa per l'ennesima volta? Perché credo nella rete internet, credo nel web e credo che questi due grandi strumenti possano essere molto d'aiuto per le aziende, per i professionisti, per i giovani, per tutto. Perché senza rete internet e web utilizzati in maniera consapevole, efficace e seria non ci va da nessuna parte. Ragazzi è tosto questo, guardate che farà strada su internet. Senti, e quindi cosa sta succedendo in questi due giorni intensissimi? Anzi, tre giorni, cosa state combinando? Stiamo combinando che stiamo mettendo insieme forse alcune fra le migliori teste pensanti del mondo del web, discutendo di come il web può diventare sempre migliore. Accidenti, e senti, ma mi dicono anche che farete una notte bianca, qualcosa di gala, delle robe pazzesche, quindi non c'è solo il business nella rete, ma c'è anche la persona, c'è anche la vita. C'è anche la persona, la vita e c'è il divertimento. Tra l'altro verranno premiati 100 professionisti per la loro bravura, per la loro carriera. 100? Quanto dura? Un'ora. Verrà tre ore. Carlo Massarini che presenterà tutto. Quando mai? Sarà molto impegnato. Gli ultimi 15 secondi che messaggio vuoi lasciare al web italiano? Utilizzatelo al meglio, utilizzatelo consapevolmente perché è bene di tutti. E siamo esattamente in un punto di 30 secondi, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Ciao a tutti, senza timore.